E adesso vi presento subito i nostri primi ospiti di oggi. Diamo il benvenuto, parliamo di Galdos, noi ci siamo già occupati di questa scuola di formazione molto interessante, con Diego Montrone che è il presidente Galdos, buongiorno, benvenuto, e Fabrizio Lops, responsabile area placement apprendistato. Allora chi è che ricorda? Abbiamo già fatto una bella chiacchierata su questo argomento, ma per chi non l'avesse sentita bisogna un po' ricordare anche l'importanza di questa scuola. Galdos è un centro di formazione professionale regionale che organizza attività formative da circa 25 anni, offerta ai giovani che dopo la terza media desiderano investire su una professione, decidono di formarsi in un lavoro, in un'attività che poi diventerà evidentemente il loro lavoro dopo 3 o 4 anni. Lavoriamo in diversi settori e sono circa 1.400 i ragazzi che fanno questa scelta e che costruiscono il loro futuro insieme a noi. Con una percentuale poi altissima di inserimento al lavoro, dicevamo la scorsa volta. Voi ricordavate che siamo circa al 93%, siamo impegnati a farlo crescere questo numero perché non siamo così soddisfatti, però evidentemente è bello vedere tanti giovani che dopo 3 anni possono iniziare a costruire il loro futuro in un'attività vera, che ha a che fare con un mestiere e da lì partire con la loro carriera professionale. Ecco, ricordiamo anche che c'è tutta un'equipe che aiuta questi ragazzi a trovare la propria strada perché stiamo parlando di un'età molto difficile dove non sei carne e pesce di solito si dice. Sto pensando ai miei figli, difficilissimo. Esatto, io ho una nipotina di quell'età. Insomma, non è semplice avere le idee chiare, si rischia di sbagliare. In che modo voi riuscite a far capire a loro stessi prima di tutto chi sono e cosa vogliono? Certo, ma diciamo che i ragazzi spesso non hanno le idee più chiare di noi, nel senso che magari alle volte non li aiutiamo a seguire quello che loro hanno come percezione, magari come desiderio e non facciamo il tutto per farglielo verificare perché magari abbiamo precostituito noi delle decisioni e delle risposte che sono diverse da quelle che loro hanno. Io direi che la cosa più importante da fare, anche perché non è che uno a 13 anni debba investire e decidere tutto della sua vita, può anche sbagliare, è aiutarli a verificare quello che sentono, che provano, che desiderano e magari fargli vedere altre possibilità perché magari non le hanno considerate tutte. Quindi un sistema di orientamento che faccia vedere, verificare senza escludere nulla, secondo me in questo momento è una grossa carenza ed è quello sul quale noi siamo particolarmente impegnati all'interno dei percorsi delle scuole medie con le scuole che partecipano a noi e con le attività di orientamento e di verifica che oserei dire tutto l'anno Galdos organizza proprio con questo obiettivo. Ecco poi con Fabrizio Lops facciamo tutto un discorso sull'apprendistato ovviamente che è molto importante perché già avere a che fare con il mondo del lavoro non è uno scherzo, ne lo vediamo a volte quando i ragazzi vengono a fare gli stage, è una cosa completamente diversa dalla scuola e degli orari, deve essere precisa, deve essere affidabile. Tante qualità da avere, certo, certo, però ovviamente le scuole servono anche a questo. Vogliamo ricordare anche quali sono, cioè bellezza, cultura, lavoro, quali sono poi i campi nei quali vengono inseriti? Allora, tutto il settore della ristorazione è sicuramente un'attività molto presente nelle iniziative di Galdos, quando dico ristorazione voglio dire dal cuoco, dall'aiuto cuoco per arrivare alla panificazione, pasticceria, pizzeria, sala, insomma tutti i ruoli e attività coinvolte in questo settore. Poi a questi abbiamo associato un'attività legata alla ristrutturazione che vuol dire un po' di muratura ma quest'anno per la prima volta si dedica anche alla manutenzione del verde, abbiamo ruoli legati alla gestione dei pc, alla manutenzione, alle reti, reti elettriche sia civili che industriali, gioielleria. Sono tutte attività che tra l'altro non sono per noi fisse o un elemento dal quale non si può prescindere perché di anno in anno, anche se magari non capita sempre, modifichiamo sia i contenuti e addirittura i settori, magari implementandoli, tenendo conto quelle che sono le esigenze del mondo del lavoro. Perché l'obiettivo nostro di Galdus e di Centro di Formazione Professionale è quello di inserire, di aiutare, inserire nel mondo del lavoro i ragazzi. Quindi le attività e i settori devono, se si vuole fare bene il nostro mestiere, avere delle relazioni da subito con aziende del settore che manifestano l'intenzione di inserire professionalmente poi i ragazzi. Certo, quindi conoscere il mercato, capire laddove è il caso di inserirli.